Gossip, amore tra Giorgia e Luca di Un posto al sole Gossip! Giorgia Genetiempo e Luca Turco vivono felicemente la loro storia d'amore, nata sul set di Un posto al sole. Gossip! È nato l'amore tra Giorgia e Luca Un posto al sole. Giorgia Genetiempo e Luca Turco sono ufficialmente innamorati. I due attori si sono fidanzati sul set. Giorgia Genetiempo interpreta il personaggio di Rossella all'interno della soap Artinopea. Mentre Luca Turco interpreta Nick. I due personaggi hanno avuto anche una breve relazione, terminata poco dopo. Ma a quanto pare, l'amore però continuata fuori dal set di Un posto al sole. Giorgia entra nel cast di Un posto al sole nel 2010, sebbene già avesse diverse esperienze lavorative avendo interpretato dei personaggi nelle fiction Un medico in famiglia oppure Don Matteo 6. Gossip! L'attore Luca Turco entra nel cast di Un posto al sole all'età di nove anni, anche se la sua collaborazione è saltuaria in quanto dava maggiore priorità alla scuola. Successivamente ha deciso di seguire il suo sogno e quindi ha intrapreso con maggiore costanza questo lavoro, diventando uno dei personaggi principali della soap.